Cari figli, voi siete la mia forza. Cari figli, voi siete la mia forza. Vi guardo nel Padre Celeste, guardo i vostri pensieri, i vostri dolori, le vostre sofferenze e le porto a mio figlio. Non abbiate paura. Non perdete la speranza, perché mio figlio ascolta sua madre. Egli ama fin da quando è nato, ed io desidero che tutti i miei figli conoscano questo amore, che ritornino a lui coloro che, a causa del loro dolore e di incomprensioni, l'hanno abbandonato e che lo conoscano tutti coloro che non l'hanno mai conosciuto. Per questo voi siete qui, apostoli miei, ed anch'io con voi come madre. Pregate per avere la saldezza della fede, perché amore e misericordia vengono da una fede salda. Per mezzo dell'amore e della misericordia aiuterete tutti coloro che non sono coscienti di scegliere le tenebre al posto della luce. Per mezzo di mio figlio essi sono i pastori delle anime. Vi ringrazio. Per mezzo di mio figlio essi sono i pastori delle anime.